E' mancato il colpo di Reni finale per dare a De Caro la vittoria in prima battuta. La sindrome del 49%, quella che colpì anche il sindaco Michele Emiliano, si è fatta sentire ancora una volta. Imponsibile superare la fatidica soglia del 50%, sebbene all'apertura delle operazioni di scrutino l'impresa era apparsa possibile. Il divario tra De Caro e il suo principale avversario, Mimmo Di Paola, sostenuto dalla coalizione del centrodestra, è apparso insorbontabile sin dalle prime battute, ed è rimasto tale fino alla fine dello spoglio. Sarà dunque necessario ricorrere ai tempi supplementari per conoscere il successore di Michele Emiliano. Dunque, il ricorso al ballottaggio l'8 giugno sarà inevitabile con tutto quello che ne consegue e le difficoltà di portare nuovamente alle urne gli elettori baresi. Proprio come accadde cinque anni fa tra Emiliano e Simone Di Cagno a Brescia. Allora la partita l'ha chiusa a Emiliano con il 49,6% delle preferenze contro il 46% dell'avversario. Dalle 14 di ieri l'intero staff di De Caro ha seguito con fibrillazione crescente su computer e maxischermi l'andamento dei risultati dai seggi elettorali, grazie al sistema telematico di trasmissione dei dati organizzato quest'anno dal comune di Bari. In via Calefati, sede dei due quartieri generali di De Caro e Di Paola, era evidente cogliere gli stati d'animo. Da una parte la speranza di allungare le distanze di De Caro e superare la soglia del 50%, dall'altra la necessità di rincorrere il candidato sindaco del centro-sinistra e recuperare qualche punto percentuale. Terzo incomodo, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Sabino Mangano, il cui dato attestatosi intorno al 7% non ha mai subito variazioni di rilievo. L'unico candidato donna, Desiree Di Geronimo, sostenuto da quattro liste, ha raggiunto quota 5.300 voti, vicinissimo al quorum necessario per l'attribuzione del seggio in consiglio.